Cari figli, le mie parole sono semplici, ma sono colme di amore materno e sollecitudine. Figli miei, su di voi si addensano sempre più ombre di tenebra e d'illusione. Ma io vi invito alla luce e alla verità. Io vi invito a mio figlio. Solo lui può trasformare la disperazione e la sofferenza in pace e serenità. Solo lui può dare speranza nei dolori più profondi. Mio figlio è la vita del mondo. Quanto meglio lo conoscerete, quanto più vi avvicinerete a lui, tanto più lo amerete. Perché mio figlio è l'amore. L'amore cambia ogni cosa. Rende bellissimo anche ciò che, senza amore, vi pare insignificante. Perciò vi dico di nuovo che, se volete crescere spiritualmente, dovete amare molto. So, apostoli del mio amore, che non è sempre facile, ma, figli miei, anche le vie dolorose sono strade che portano alla crescita spirituale, alla fede ed a mio figlio. Figli miei, pregate. Pensate a mio figlio. In ogni momento della giornata innalzate il vostro animo a lui. Io raccoglierò le vostre preghiere, come fiori del giardino più bello, e le donerò a mio figlio. Siate autentici apostoli del mio amore. Diffondete a tutti l'amore di mio figlio. Siate i giardini del fiore più bello. Aiutate con la preghiera i vostri pastori, perché possano essere dei padri spirituali colmi d'amore verso tutti gli uomini. Vi ringrazio.